Rieccoci terza e ultima parte del sindaco risponde in compagnia con il sindaco di Padova Sergio Giordani sindaco ci siamo detti prima della pubblicità adesso c'è da parlare di una piccola nota dolente che riguarda Padova ma riguarda un po' tutta la pianura padana vale a dire quello dell'inquinamento insomma che è un problema cronico e che adesso tra l'altro con l'arrivo dell'autunno tornerà a riproporsi andiamo a vedere il servizio perché vediamo dei dati un po' particolari secondo insomma una recente ricerca statistica Padova e Verona sarebbero due tra le città più inquinate d'Europa se non le più inquinate d'Europa però andiamo a vedere tutto nel servizio La peggiore aria in Europa la si respira nella pianura padana e in particolare a Padova e a Verona le due città sono infatti sul podio della recente classifica stilata da Rete Europea di Data Journalism che analizzando i dati satellitari del servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus individua le aree dove il particolato fine PM 2.5 è superiore ai limiti fissati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Ebbene analizzando da gennaio ad agosto 2023 i dati relativi alle concentrazioni settimanali delle principali città europee emerge che sono proprio Padova e Verona le città dove si sono avuti più sforamenti dei valori di PM 2.5 Nelle 34 settimane monitorate Padova per 14 volte ha registrato valori superiori di oltre 4 volte rispetto al limite fissato dall'OMS che è di 5 microgrammi per metro cubo d'aria Nella classifica le due città della pianura padana sono seguite da Milano e quindi da alcune città della Polonia Risultati preoccupanti per la pianura padana che già l'osservatorio dell'Agenzia Europea per l'Ambiente aveva classificato tra le peggiori per il PM 10 e per l'ozono Come se questo non bastasse a rendere la gravità della situazione è anche l'analisi dei dati dal 2018 in poi che fanno registrare come la situazione sia in via di miglioramento per quanto riguarda le città polacche merito del piano di modernizzazione dei sistemi di riscaldamento mentre nelle città italiane i valori sono in peggioramento Servono quindi misure per limitare le emissioni inquinanti sia delle autovetture che del riscaldamento politiche che investono di più sul trasporto merci ferroviario a discapito di quello su gomma aspetto che finora in Italia è stato trascurato e questo perché di particolato si muore già la sola riduzione dei camion sulle nostre strade porterebbe dei benefici in termini ambientali Come ne usciamo sindaco da questa situazione? È molto complicata però e vale per tutta la padagna non mi trovo con certi dati non stiamo peggiorando, stiamo migliorando pochissimo ogni anno miglioriamo ognuno fa la sua statistica per quello che so io stiamo migliorando che non sto dicendo che l'aria è perfetta assolutamente non ci stiamo anche impegnando stiamo impegnando come in tutte le zone sapete che c'è un protocollo tra le varie zone nella piena padana vuol dire Lombardia, Veneto, Milano e Romagna e qui purtroppo quando comincia l'inverno stiamo facendo un semaforo verde, arancio e rosso E tra l'altro avete presentato proprio oggi in conferenza stampa più tardi nel nostro telegiornale avrete tutti gli aggiornamenti su questo E quando sono queste cose la gente si arrabbia moltissimo perché dice perché fate queste cose e uno dice se lo faccio perché c'è la qualità dell'aria non mi interessa niente la qualità dell'aria perché mi trovo una persona che per la strada dice adesso io devo andare a fare la terapia in ospedale ho la panna vecchia ma mi accompagna lei a fare la terapia provate a spiegare dopo un anziano che deve chiamare l'auto che mai non ha le sosse e che deve andare a fare la terapia per cui diventa difficile però noi cerchiamo di applicarlo al massimo non solo, anche gli investimenti per cui il tram è uno di questi è un mezzo importantissimo piazza o non piazza sotto l'aspetto politico è un mezzo che porterà 20 milioni di persone all'anno in maniera diversa in maniera con l'elettrico in maniera perfetta sotto l'aspetto inquinamento però sindaco quanto incide in tutta una città inquinata quella porzione che è data da quelle persone in più che si spera siano sempre di più che prenderanno il trasporto pubblico il tram perché purtroppo non è solo quello l'inquinamento non è solo quello però in senso il trasporto pubblico sapete arriveranno autobus elettrici altrimenti è una richiesta enorme a livello Europa per cui i consegni sono in ritardo di un anno autobus elettrici tram blocchi e settimana ecologica però è uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme quando fermiamo da una sanzione a una persona si alabia molto e di conseguenza è difficile ognuno critica la qualità dell'aria poi quando viene sanzionato o succedono problemi dico ecco però non fate niente vi ricordo che io ho la responsabilità chiara della salute pubblica non è vero che sono responsabile della sicurezza la responsabilità mia è della salute pubblica per cui devo intervenire altrimenti ne sono responsabile sotto gli aspetti per cui noi cerchiamo di fare il massimo per me il tram sarà fondamentale e non sarà talmente sarà nel 2026 20 milioni di persone che si spostano in un altro modo è importante persone che hanno avuto un grosso successo anche la mobilità dolce per cui biciclette biciclette elettriche servositite muscolari monopattini stiamo anche pensando di fare l'altra zona abbiamo fatto la Comepa vuol dire i comuni di Pado con tutti i comuni di Conterno pensando di fare una gara assieme per tutti quanti ampliando il raggio della zona la mobilità è un incremento alta del 20% la mobilità elettrica e poi Sindaco c'è l'alta velocità perché anche il trasporto ferroviario insomma quello veramente aiuterebbe molto anche dal punto di vista delle merci ridurrebbe la presenza di camion però il nostro paese purtroppo non ci sta ancora puntando molto sull'alta velocità lo sta cambiando molto l'interporto di Pado che è il più grande dell'interporto d'Italia sta lavorando con circa 20% di incremento all'anno porta 8.503 all'anno porta 8.503 per 21-22 conterno capite cosa vuol dire se per caso lo dico in maniera ovviamente ironica chiude l'interporto vuol dire bloccare Pado bloccare il Veneto per cui è una funzione importantissima poi sta investendo sul trasporto di quindimento con cui va a portare l'elettrica è un grande esempio di un'azienda pubblica che pubblica 100% quasi 100% pubblica che funziona molto bene per cui non è vero che il pubblico non funziona il pubblico funziona quando è gestito bene e qua abbiamo mezzo di gente che sa fare ogni anno incrementa e fa anche utile fa occupazione aumenta i treni e fa utile non è facile tra l'azienda è un orgoglio che Padova abbia una agenda che il commercio il proprietario il comune il camion il commercio il provincio è una grande roba però Padova di traffico auto camion ce n'è ancora molto certamente però sempre meno con l'automazione dell'interporto prima un camion ci metteva circa 2 ore 30 o 60 o 20 minuti cambia moltissimo moltissimo è chiaro che nel tempo le ferrovie nessuna accusa fa parte del piano strategico non ha investito nel ferro ha investito nella gomma va cambiato sta cambiando velocemente sta incrementando moltissimo nel tempo il ferrovie ha basato all'alta velocità non ha il trasporto su e questo cambia basta andare in autostrada e si capisce quanto gomma abbiamo e quanto dobbiamo investire nel ferro il sistema di sicurezza in termini di inquinamento noi cerchiamo di fare il massimo per quanto riguarda la mobilità di Padova ricordo che siamo in mezzo a tangenziali autostrade zone studiale non facile però ci impegna e non è vero che non stiamo migliorando ogni anno non capisco sul servizio che peggioriamo no personalmente stiamo migliorando pochissimo potrai andare a chiedere conto ovviamente all'agenzia che ha fatto questi dati ognuno dice la sua opinione ognuno ha la sua statistica per cui secondo me stiamo migliorando non stiamo risolando un po' alla volta entrai anche presidente della provincia mi faccio mancare niente esatto così alle giornate impegnate questo tema legato ai blocchi del traffico riguarda anche tutti i comuni della cintura urbana già l'anno scorso c'era stata un po' di polemica con alcuni comuni mi ricordo su tutti i 90 che insomma c'erano parecchio arrabbiati ma da un certo punto di vista in maniera anche comprensibile perché un comune come 90 non è un comune come Padova allora quest'anno la situazione le chiedo com'è è molto omogenea stavolta c'è sempre chi non accetta questa cosa è chiaro che dire è un comune piccolo piccolo rispetto a Padova non voglio essere tu non puoi fare questo non puoi fare l'altro però ognuno sta acquistando sensibilità su questo tema c'è un ottimo rapporto come il presidente della provincia con tutti i sindaci ero molto preoccupato in inizio adesso devo dire stanno lavorando in tecnica di collaborazione molto bene non ne abbiamo litte collaboriamo tutti diciamo i lavori importanti per quanto riguarda scuole medie superiori con 30 milioni di euro spendere su queste cose molto importante stiamo lavorando bene rotatorie strade abbiamo 1200 km di strade come provincia per cui e fino a ieri non c'erano risorse fino a ieri insomma io sono fortunato quando sono arrivato io sono arrivato risorse non coincido ovviamente voglio un tappo sono solo perché sono fortunato e stiamo facendo tantissimi lavori di più di prima li rispetteranno tutti i comuni della cintura urbana le limitazioni ne sono convinto bene sono molto ottimista c'è un ottimo clima in provincia come c'è in in comune io faccio fatica a lavorare c'è anche ieri ieri in comune c'è consapevolezza che la città non è la maggioranza e la miglioranza è di tutti in conseguenza lavoriamo tutti insieme ognuno fa gioco politico che sia chiaro è anche il bello della democrazia ovviamente ovviamente anche se lei ogni tanto preferirebbe qualche opposizione in meno forse però alla fine apprezzo è giusto che sia per carità l'opposizione sarebbe veramente un grosso se fosse dio mio ma poi siamo un'opposizione che funziona fa funzionare in qualche modo anche la città certo stimola contesta critica in maniera totale in maniera corretta non ce lo urla non sono strepiti detesto queste cose per cui per quello che mi riguarda l'opposizione e la maggioranza per me sono tutti amici nel senso di collaborazione ognuno sa la sua parte per dire deve farlo se no diventa un problema siamo in chiusura di questa puntata del sindaco risponde anche questa sera abbiamo affrontato tanti temi insieme al sindaco di Padova Sergio Giordani abbiamo parlato del futuro della caserma Prandina ma abbiamo parlato anche del turismo con i dati che stanno crescendo veramente molto per quanto riguarda la città di Padova abbiamo parlato anche del tema dell'inquinamento sindaco allora grazie per essere stato con il nostro ospite anche questa sera grazie ovviamente a tutti i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici per averci seguito tra poco alle 20 la linea all'informazione a TV7TG e con il sindaco risponde torniamo come di consueto martedì prossimo alle 19 una buona serata buona serata a TV7TG a TV7TG Grazie.